Sbracciava in via Dalmazia chiedendo l'aiuto di due agenti della volante che erano in zona. L'uomo, di origine indiana e regolare in Italia, ha raccontato loro di essere stato aggredito e rapinato poco prima da un suo connazionale che dopo una discussione lo aveva percosso con uno schiaffo al volto e lo aveva spinto a terra impossessandosi del suo smartphone e della somma di 40 euro frutto delle lemosine racimolate in varie zone della città. L'aggressore conosciuto dalla vittima è stato descritto agli agenti. Al termine dei riscontri inato da parte degli agenti delle volanti sarà informata l'autorità giudiziaria.